Ehi, lontano di quella soltana, stai a mezzo. Questo è bellissimo, eh. Che bello lavoro, sogni! Quando Marcello è la prima volta che va sui muri? Non è la prima volta perché è troppo bravo. È troppo bravo perché sia la prima volta. Alla prossima! Alla prossima! Così? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti